ecco il borgo di isola santa questo è un borgo di origine medievale sono praticamente in mezzo le Alpe Apuane a circa 20 minuti in auto da Castelnuovo Garfagnana si segue la strada per Arni è un borgo praticamente disabitato c'è giusto il ristorante ma diciamo è caratteristico perché appunto è sopra il fiume tutto in pietra e quindi diciamo attrae molto i turisti come vedete sono proprio in mezzo le Alpe Apuane adesso così non so riconoscere i monti ma so che il versante dalla parte del fiume questa che sto inquadrando si dovrebbe essere il Corchia con dietro il gruppo delle pagne la chiesa risale al 1200 tra settimana praticamente non c'è nessuno c'è il ristorante aperto ma non c'è un'anima viva è la prima volta che riesco a salire qui sopra perché non c'è mai parcheggio perché ce ne sono tipo due o tre e quindi non ci sono mai venuto sopra la diga mi approfitto da fare qualche bella foto guardate isola santa spettacolo il paese è veramente minuscolo però merita una visita tra l'altro c'è appunto un ristorante in paese e un altro sulla strada principale quindi dai consiglio di farci un salto è veramente bellino questo paese adesso per un paio di giorni sono qui in zona quindi vediamo se riesco a fare altri tour vediamo un po' e niente ci vediamo alla prossima ciao a tutti